no benvenuti ragazzi sul canale di giochi next gen siamo qui oggi con fest 2016 e siamo nella decima divisione ragazzi quindi da oggi iniziamo a provare la scala della decima divisione io ho fatto già una partita per i fatti miei senza registrare per riprendere un po la mano visto che è un gioco sempre a festi che sapete mi porto vari giochi e sono stato già rato è avuto problemi però di lag allucinata attenzione sul test esterno della rete con le vantoschi ecco qua subito per pulgarci e golden avversario gli anni non riusciti a recuperare e ci hanno subito 1 a 0 se non parto in salita io non sono mai contento pallone parato e meno male ragazzi non è riuscito a segnare guardate ancora dentro corpi baggio 2 a 0 nulla da fare ragazzi iniziano in avversario essere più forti e ad avere un po di difficoltà mi dovete guardare a questa nuova divisione in quanto qui deve essere un po più ostici le vantoschi se ne va con una finta le vantoschi le vantoschi le vantoschi sono di pochissimo abbiamo sfiorato il gol di un veramente di un soffio potevamo accorciare le distanze fuori in suo tiro ma terry se l'ha fatto saltare veramente in maniera troppo troppo semplice corabaggio perché sedo che siete solo crescendo la lunga palla perché perché tenuti palla che si do e c'è il palo esterno dell'avversario palo esterno ora palla dentro le vantoschi che si do 1 2 splendido le vantoschi parata ancora parata e va bene ragazzi ciao veramente c'è gesù cristo in porta c'è gesù cristo in porta non passa nulla ragazzi eccoci tratti col secondo tempo mi sono giocato la carta anima per che si do sperando insomma di riuscirò a fare qualcosa di meglio attenzione pallone dentro colpo di testa per lo smorzato grazie di 30 john terry ma non è messo dentro fuori di pochissimo un coro di baggio nema e ma perché si allungano palla perché si allungano palla se non è baggio dentro neymar se ne va il solo neymar 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 tiro di neymar gol 2 a 1 accorciamo le distanze 2 a 1 70 maestro non è successo nulla in questo secondo tempo leion dentro le vantoschi le vantoschi ancora le vantoschi dentro neymar neymar salta il portiere neymar gol pareggio rimettiamo su questa partita in pochi minuti doppetti di neymar abbiamo rimesso su questa partita grande scatto ho liberato anche il portiere che sembrava già successo all'ultimo tempo due parti attenzione a neymar qua si prendevo palla e finisce la partita due pari in questa prima partita al cardiopalma quindi un primo punto ho conquistato in divisione 10 me ne passano 4 per non procedere ci vediamo subito con la seconda partita anche ragazzi eccoci giunti alla seconda partita del giorno sperando che vada meglio della prima quindi che adesso sia una vittoria per far almeno 4 punti fallo sul donato però oggi sono i problemi seri di altri ragazzi chi è Caceres? Caceres è stato appena ammonito allora proviamo con Roberto Baggio vediamo se iniziamo a fare con l'onzolo vediamo un po' ragazzi ci trovo vediamo se riesco attenzione parte Roberto Baggio nello specchio della porta ma pare al portiere però che io ragazzi Roberto Baggio pallone dentro e c'è la parata di Leali l'arbitro è da dietro e non ha dato un panno incredibile era un intervento da chi è scivolata attenzione per il fatto di Young 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 tiro deviato quasi un gol angolo per noi il tiro che si è stato nello specchio avrebbe creato 6 problemi a portiere ti è mancato un fisico di fortuna in avanti attenzione dentro colpo di testa di Caicedo di pochissimo fuori che colpo di testa ragazzi Caicedo che è riuscito a passare non so come ma è riuscito a passare tiro qui facile parata che è un armadio Caicedo Caicedo ancora Caicedo fermato Baggio toglie palla ancora Caicedo al tiro col Caicedo 1 a 0 dopo una serie di rimpaglia è arrivato il suo tiro Caicedo segna 1 a 0 per noi partita combattutissima e ce ne ecco qua Sturaro se ne va da su Sturaro 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 fermato noi vanno a scrivere tutta la palla Neymar 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 ancora nulla da fare fermato anche di qui ancora fermato pallone dentro Miorevich prova rubare palla nulla da fare ci siamo divorati giù a 0 di Lewandowski qua si è arrivato al tiro bocca sicuro Caicedo Caicedo è solo al tiro fermato il momento del tiro in scivolata rischiafante rigore il nostro avversario qui non c'era pure il gioco nooo pareggio era totalmente solo ragazzi Lewandowski caicedo per Lewandowski era fuori gioco fuori gioco fuori gioco e finisce così 1 pari anche questa parte ragazzi è finita con un altro pareggio quindi non riesco a vincere abbiamo conquistato due punti fino ad ora e ho fatto due o tre sconfitte una per dei merito mio ma le altre per colpa dell'Avi quindi devo farmi altri due punti per salvarmi e rimanere in divisione 10 che nel prossimo episodio ragazzi proverò a salvarmi spero comunque che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un like commentate condividete ovviamente ragazzi come sempre iscrivetevi al canale suggerite il mio canale e i vostri amici mi raccomando così aiutate a farmi conoscere ci vediamo al prossimo video qui da un giorno dell'83 è tutto bella